Benvenuti a questa serata di presentazione della lista e del programma di Unire San Andaro. Vi ringrazio veramente per questa splendida partecipazione che denota l'interesse della comunità nei confronti dei fatti amministrativi e questo direi che è indice di una grande maturità. Ringrazio anche il consigliere regionale Villani, il segretario del PD, Lasagna, i sindaci, cari sindaci, colleghi vicini di territorio, Sabella, Chiesa, Bonandini, spero di non dimenticarne qualcun altro. Ecco, dicevo che la serie di presentazioni del nostro programma, una presentazione che si incentra su una frase molto semplice, rinnovamento nella continuità. Perché vogliamo questo rinnovamento nella continuità? Guardate, vi leggo i primi quattro punti della mia introduzione al programma che sono molto semplici ed esplicativi. Perché vogliamo proseguire un cammino che pur costellato di difficoltà ci ha permesso di iniziare a cambiare la nostra cittadina? Perché l'esperienza acquisita in questo quinquennio è un patrimonio che non deve essere disperso, ma reinvestito nell'interesse della comunità? Perché i valori di oggi, la competenza, l'onestà, l'impegno e la responsabilità devono essere gli stessi di domani? Perché donne e uomini nuovi possano portare a compimento un'opera pervasa di volontà, sacrificio e dedizione, ma anche di grandi gioie e soddisfazione. Abbiamo una squadra completamente rinnovata. e sono qui però vicino a noi a confermare che il loro è stato un cammino, ma che non vogliono perdere comunque degli obiettivi comuni. Sono qui vicino a noi Renato, Ferruccio, Giovanni e ci sarà presto anche il Fabrizio, che è impegnato, Fabrizio Tassi, impegnato in operazioni d'urgenze nella affineria, ma ha promesso che sicuramente prima della fine della serata ci sarà anche lui. Dicevo questo a testimoniare che abbiamo lavorato insieme, abbiamo lavorato bene insieme. Adesso c'è una squadra nuova, rinnovata, per nove dodicesimi, fatta da persone che vengono prevalentemente dal mondo civico, sono tutte persone molto praticate, persone giovani, persone che hanno, molte di loro, anche una formazione di studio scolastica molto importante e che vogliono dare il loro contributo a migliorare ancora la nostra città. Guardate, ai quattro perché che vi dicevo prima le aggiungo anche un altro. Perché rinnovamento nella continuità? Perché ho fatto tanti sbagli? Ho fatto tanti sbagli in questi cinque anni. perché a fare il sindaco si impara? Io sono arrivato dalla industria privata pensando idealmente di poter trasporre le logiche di questo mondo al mondo della pubblica amministrazione, ma mi sono accorto che non è così. Per tante motivazioni, alcune notte, altre invece che appartengono di più a chi è del mestiere. Ma dovete capire che non basta fare il pubblico amministratore, non basta aumentare il prezzo di un prodotto, non basta fare un bel piano marketing per avere successo. Altre sono le levi che bisogna toccare. Bisogna considerare le enormi difficoltà che esistono nella questione della pubblica amministrazione. Vi faccio un esempio banalissimo. Spesso si parla della inefficienza, dell'inerzia che ha l'organico amministrativo. Sarà anche così. Io vi dico che tra i me collaboratori il 90% è costituito da persone che lavorano con grande passione, con grande dedizione e che ce la mettono tutta. Ma dovete anche capire che quando un'amministrazione ha a disposizione 500 euro l'ordi di premio per incentivare una persona che deve raggiungere degli obiettivi, potete capire benissimo che questo collaboratore non ha grandi stimoli, grandi incentivi per raggiungere livelli di produttività interessanti. Ma ritorniamo a noi, ritorniamo alle persone. Vi dicevo che fra quelli che ci sono stati vicini ve ne ho ricordati quattro, ma ce n'è un quinto. Quello con cui ho vissuto più a lungo, quello che ha lavorato tanto per San Nazaro, quello che ha innovato tanto l'amministrazione di San Nazaro, ed è Andrea, ed è Andrea Tuglioni, con cui ho avuto, è stata per me croce delizia. Ho vissuto più con lui che con mia moglie in questi cinque anni. Ma devo dire che è una persona straordinaria, da cui ho imparato molto e che ringrazio e stimo, credetemi, è la persona che conosciuta personalmente e stimo di più al mondo. È una persona straordinaria e mi dispiace tantissimo che per motivi personali incontestabili abbia deciso di lasciare l'amministrazione, ma sente un dovere verso la famiglia, verso i nipoti, assolutamente superiore ed è comprensibilissimo. Bene, direi che a questo punto, prima di addentrarci a vedere un attimino il programma più nello specifico, voglio presentarvi questo gruppo di persone per me veramente straordinarie. È un gruppo forte, è un gruppo che si è consolidato fin da subito, è un gruppo che si è faticato a costruire perché non volevamo accontentarci a trovare chi ci diceva, sì, volevamo trovare persone che veramente potessero avere una motivazione vera, una motivazione solida per entrare in squadra, che avessero un background, una preparazione, un profilo sicuramente adatto per governare San Nazaro e io sono convinto che lo sapranno fare molto bene. Direi che lascio la parola a loro, c'è un ordine prestabilito che in questo momento non ricordo, ma lasciamo la gestione ad Andrea e sentiamo subito allora Pierangelo Cazzini. Prego. Buonasera a tutti. Quando cinque anni fa, proprio in questa sala, veniva presentata la listica civica Unire e San Nazaro, eravamo coscienti che l'alleanza tra uomini e donne di estrazione diverse, perché questo era, avrebbe messo a dura prova la capacità di stare insieme nel gruppo, pur avendo un comune obiettivo dettato dal programma amministrativo pienamente condiviso. Così è stato. Era rimarcata la perizia che l'attuale maggioranza consigliare ha dimostrato nel condurre il governo della città, mantenendo di fatto una visione concreta ed unitaria. Questo non sta a significare che siano state tutte rose e fiori, tutt'altro, ma la responsabilità ha prevalso su tutto il resto. Sul versante magistrativo si poteva fare di più, si poteva fare meglio? Le critiche non mancano. Questo sempre. Ma su almeno cinque punti siamo stati efficaci e poerenti. Equità con tutti i cittadini, al primo posto, riduzione del debito pubblico, riduzione della spesa corrente, mantenimento di un buon livello di servizi sociali, cosa non facile, e soprattutto il rispetto di buona parte del programma di mandato e anche di altre cose che facendo siamo riusciti a costruire e che poi vedremo rappresentate dal sindaco quando parlerà del nuovo programma. Scusate, ma non è poco di questo tema. Diceva il sindaco, rinnovamento nella continuità. Come richiameremo più volte nel corso della serata è il motto che ben fotografa la nostra azione. Con tanti giovani che affiancano chi porta la conoscenza amministrativa. Abbiamo costruito e condiviso un programma che potrà continuare nelle azioni e nelle opere avviate nell'attuale amministrazione dal sindaco Maggi. Per quanto mi riguarda, competenze, esperienze e responsabilità, lasciatemelo dire, sono state le qualità che hanno caratterizzato il mio impegno. Nell'amministrazione pubblica e che con determinazione e con una punta di orgoglio ho messo a disposizione della macchina comune. Il desiderio che mi guida è quello di imprimere un ulteriore slancio alla nostra città, ma ancor più sento il dovere di riuscire a passare il testimone dell'impegno civile a nuove forze ai giorni. Ed ancora auspico che la solidarietà civica pervada la comunità sannazzarese. Questo è un obiettivo che io vorrei tutti quanti questa sera ci portassimo a casa. Concludo il mio breve intervento con qualche riflessione di carattere generale, anche un po' politico. La prima è che non possiamo dimenticare che soprattutto grazie al governo leghista della regione Lombardia si potremmo avere a ridosso del nostro territorio una grande discarica di cemento ammiato, contro la quale l'amministrazione ha tanto lottato e continua a lottare con tutti i mezzi a disposizione. Tuttora sono pendenti due ricorsi al TAN che attendono una sentenza. La seconda riflessione, molto semplice, è che nel merito della variegata lista di centrodestra del candidato Zucca un'affermazione mi sento di dire. San Nazaro non diventerà mai una città leghista, non è nella sua storia, non è nel suo futuro. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Ecco, vi dicevo che ci sono la lista è fatta da giovani, persone che sono preparate molto bene sul piano scolastico, è fatta però anche da persone di esperienza, da manager, uno di questi è Jean Truca che lavora nel settore dei trasporti. È stato appena coinvolto in questa avventura, inizialmente ha voluto sapere i dettagli del nostro mondo, quali fossero le logiche, quali fossero i più obiettivi e alla fine è accettato. Sono molto contento di questo perché è veramente una persona di grande spessore che potrà dare molto all'amministrazione della comunità. Prego. Buonasera a tutti. Rispetto a chi mi ha preceduto io non sono un oratore, è la mia prima esperienza in pubblico per cui mi scuso già da adesso del tempo che vi ruberò. Dunque, mi chiamo Gian Zucca, Giovanni è il nome ufficiale, dopo gli studi nell'ambito amministrativo ho iniziato a lavorare all'estero, dove ho vissuto per diversi anni, poi sono rientrato e ho praticamente lavorato sempre a Milano, da una piccina di anni che ricopro il ruolo di responsabile amministrativo per aziende di medie dimensioni. A San Lazzaro sono sempre stato molto legato all'ambiente del volontariato, che si ricorda, prima di partire all'estero facevo il Milite volontario. È da moltissimi anni che sono legato all'ambiente del baseball, è da 2008 che sono presidente del San Lazzaro. Parecchi di voi, parecchie persone che conosco mi hanno chiesto perché mi candidavo. Ci ho pensato parecchio, ma infatti la prima risposta è molto banale perché mi è stata chiesta. Poi, pensandoci, penso che innanzitutto sia per un senso civico. Mi sono detto, adesso basta stare dall'altra parte a criticare, poi diamo a entrare a far parte dell'amministrazione che vedremo se sarà possibile, per vedere di far funzionare al meglio la macchina comunale con passione, saggesta e serenità. L'altro aspetto che ha emerso abbastanza in modo prepotente è che secondo me è importante far sentire che i cittadini dà un senso ai cittadini affinché si sentono orgogliosi del paese di cui fanno parte, di sentirsi sannazzaresi. Questo è stato sempre un po' latente in me, poi per il mio rischio, io sono nato in Francia da genitori sannazzaresi e quando si parlava, mi sentivo parlare in sannazzaresi, erano molto orgogliosi di essere da cittadini di sannazzaresi e non vedevano l'ora di rientrare e di condividere la stagione, le vacanze con i loro amici. Un altro episodio che mi sono ricordato in queste settimane di riflessione è che quando facevo il volontario, alcuni scherzavano sulle mie origini francesi, di cui ero orgoglioso, così, e facevano proprio sentire la loro appartenenza al gruppo sannazarese e l'orgoglio. Per cui, diciamo, mi sono messo in gioco anche per questo, per contribuire a far sì che i cittadini siano orgogliosi di far parte di questo Paese, mettendo in campo tutta la mia esperienza. Concludo facendo un riferimento al programma elettorale che tutti insieme abbiamo elaborato con fatica e con passione in queste ultime settimane. Al primo posto c'è un punto che è molto vicino alla mia professione, un comune efficiente per pagare meno tasse. Va dato merito all'amministrazione uscente di aver quasi dimezzato il debito pubblico ed è intenzione di questa vista di conseguire nel contenimento della spesa pubblica attraverso non un taglio ai servizi ma bensì a un attento controllo di gestione. Il bilancio pubblico con le nuove normative sarà sempre più simile ai bilanci privati che è da parecchi anni che me ne occupo. La riduzione dei costi consentirà anche ad offrire maggiori soposto per i servizi sociali rivolte a tutta la cittadinanza. Questo è un po' l'impegno a chi mi prefiggo per questa nuova cultura. Vi ringrazio per l'attenzione e passeremo per la parola. Passiamo la parola a una giovane laureata in scienze naturali, Valeria Di Lucia, già impegnata nel sociale, che ha delle passioni che ci ha dichiarato interessanti, valentissima, fotografa, ha vinto anche dei predici, risulta, ma lei è molto modesta. Prego Valeria. Buonasera a tutti. Io sono Valeria Di Lucia, ho 29 anni, vivo da sempre qui a Sanazzaro. Come diceva il sindaco, sono laureata in scienze naturali e attualmente lavoro all'Università di Tuttavia come entomologa forense. Quello che mi ha spinto ad essere qui è ciò che costituisce la mia più grande passione, cioè la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio naturale. Noi abbiamo un territorio che è molto fragile per motivi che ben tutti conosciamo, ma che è anche molto ricco di risorse che possono non avere magari un valore economico, possiamo non vederlo, ma che hanno un valore di per sé enorme, perché sono uniche, perché non possiamo recuperarne se queste non sono aperte. Parlo di un valore per quanto riguarda appunto il nostro ambiente in termini di specie animali, vegetali e di ecosistema. Un valore che credo sia importante tutelare per noi che ci siamo oggi, ma soprattutto per chi verrà dopo. Abbiamo questa responsabilità. Uno dei progetti a cui vorrei portare il mio contributo e portare a realizzare, per esempio il parco di interesse sovraccomunale, lungo la volina del Po, credo sia essenziale, è uno dei primi tasselli per creare un sistema che sia funzionale e migliore per chi verrà dopo di noi. Lasciarvi qualcosa di eredità che, appunto come dicevo prima, può non avere un valore immediato, ma che in futuro è estremamente importante, che venga conservato e valorizzato il più possibile. Grazie. Ora la parola a un'altra delle ragazzine di punta della nostra lista, Giuseppina De Giorgi, ha un diploma come operatrice turistica e lavora nell'ambito della grande distribuzione. Prego, Giuseppina. Buonasera a tutti, sono Giuseppina De Giorgi, ho 32 anni, ho conseguito un diploma come operatrice turistica e nel 2011 ho dei grandi venditi in una catena di supermercati. Ho deciso di unirmi alla lista, uniremo all'azzaro perché, essendo sempre stata interessata al turismo, penso che la nostra zona possa essere valorizzata ancora di più. E proprio per questo ci sono alcuni progetti che questa amministrazione si impegna a sostenere. Uno di questi è lo sviluppo della pista ciclopedonale via Convento, correlata all'Avento, che sarebbe una pista ciclabile da Venezia a Torino, che non è una semplice pista ciclabile, ma una vera infrastruttura per uno sviluppo ecologico, commerciale e artigianale, un bene al servizio di tutti, un tipo di turismo adatto sia a bambini che adulti. E inoltre, attraverso anche la pianura padana, facendo così conoscere, oltre ai paesaggi, anche le specialità economiche e dell'artigianato. In questo caso, questa amministrazione di San Nazaro, che è capofila del distretto del commercio, si impegna a coordinare gli altri comuni per poter finanziare questo progetto, partecipando a bandi regionali, europei e fondazioni che dovrebbero arrivare a breve. Inoltre, San Nazaro è patria del distretto d'attattiva turistica tra terre e fiumi, una delle aggregazioni che ha lo scopo di valorizzare il territorio. C'è anche da considerare che tutti questi progetti servono a creare ulteriori strutture ricettive e quindi a creare nuovi posti di lavoro, sempre nel rispetto, naturalmente, dell'ambiente. In caso di mie elezioni mi impegnerò a questo, in questo, a far resaltare la nostra città e non solo, anche tutti i dintorni. Vi ringrazio per l'attenzione. Adesso, invece, diamo la parola a un altro manager, che fa parte del gruppo, è Pier Patetti. Insomma, per i San Nazarese non c'è bisogno di dilungarsi nella presentazione di Pier, siamo amici da sempre e adesso lo ascoltiamo. Prego, Pier. Sono in tanti, grazie. Non ne ho una certa commozione, una certa timidezza di fronte a tante belle e brave persone. Mi presento, Pier Carlo Pappetti, nato a San Nazaro dei Burgondi, 57 anni, cresciuto a San Nazaro dei Burgondi. Tutt'ora vivo a San Nazaro dei Burgondi, è abbastanza monotona come situazione, in realtà è un ciclo scolastico del tutto normale. Entrando nel mondo del lavoro, mi sono, un po' come è successo, mi sono spostato da altre parti. Inizialmente a Milano, poi anch'io ho avuto l'opportunità di lavorare all'estero. Sono rientrato comunque in Italia, ho girato un po' di regioni, città, comunque nuori, non proprio vicini a San Nazaro. Mi occupo di logistica, sono un quadro dirigente di una multinazionale di capitale francese. Attualmente lavoro nel polo logistico di Casta San Giovanni. Il motivo per cui sono qui rispondevo così alle domande che in questi giorni parecchie persone mi hanno fatto. Sono qui perché, come penso ad altri, mi è capitato in passato di criticare, comunque di non essere completamente soddisfatto della situazione amministrativa del mio territorio. Giovanni e tutto questo splendido gruppo mi hanno dato l'opportunità di poter contribuire. L'ho fatto volentieri e convintamente, se non altro per poter continuare a pensare e a vivere serenamente la mia situazione. Ho avuto l'opportunità, mi impegno, mi impegnerò tanto e comunque riuscirò in qualche modo a soddisfare anche alcuni miei desideri. In particolare sono qui perché abbiamo scritto un programma e l'abbiamo scritto tutto insieme. La parte che mi ha subito colpito di questo programma è la particolare attenzione all'ambiente, alla salute dell'ambiente, alla salute nostra e contestualmente verso il lavoro. Sono due condizioni che, a parte che sono principi fondamentali, sancipi, nei primari articoli della Costituzione, ricordiamola ogni tanto, vale la pena. Però, parlare di queste due situazioni, salute e lavoro, è successo, l'ha detto, che pur essendo principi fondamentali garantiti, collegano. Il nostro programma, ne sono convinto, magari con una buona dose di ottimismo, riesce a coniugare perfettamente questi due aspetti. Stiamo ripensando, è scritto, chiaramente nel programma, ad un modello, vogliamo riprogettare, un modello di sviluppo diverso da quello attuale, che coincida anche con la salute di tutto l'ambiente. Il nostro punto caratteristico nel programma, da questo punto di vista, ambiente e natura, al primo posto per uno sviluppo sostenibile, lo scritto testualmente. Due situazioni molto importanti, una già partita nel 1993, la Commissione per l'assicurazione ambientale, è uno strumento molto efficace. Vuol dire che qui si è lavorato bene, molto bene, dal 1993 in avanti, da questo punto di vista, salute individuale, salute territoriale e salute comunitaria, non abbiamo avuto problemi. Si è cercato di migliorare questo tipo di situazioni, siamo arrivati in accordo con l'Università Pavia, alla Costituzione, e comunque all'istituzione di un'indagine epidemiologica. Alcuni numeri sono abbastanza importanti. Si è partiti nel 2013-2014, guardate bene, non esiste in Italia una situazione di metodologia strutturata e unitaria che interessa questo particolare aspetto. Cioè nonostante si è partiti, l'amministrazione ufficiale è riuscita comunque a mantenerla e a prorogarla per altri otto anni. E' uno strumento di un'efficacia unica, anche perché, come dicevo, mi piace pensare che quando si parla di lavoro e di salute si parla sostanzialmente di futuro e di dignità. Il futuro deve avere delle basi, dobbiamo studiarci, capire dove siamo e dove vogliamo arrivare. E' lo scopo di questo strumento. Va intensificato dal mio punto di vista, il mio impegno sarà sostanzialmente tutto quello. Un impegno può far capire ai cittadini che è veramente importante utilizzare questo strumento. Dobbiamo essere trasparenti, comunicare quello che facciamo da questo punto di vista, trasmettere loro i risultati che riteniamo e chiedere ultimamente collaborazione. Senza la collaborazione dei cittadini non si va da nessuna parte. Soprattutto su un argomento così delicato, lo salutevo dai per tutti. Ho già parlato troppo, vi ringrazio, vi ringrazio tutti quanti. Sono estremamente felice di aver fatto due chiacchiere con voi. Grazie. Dopo Pier Papetti lasciamo la parola a Ezio Lanciotti, un imprenditore. Ezio appartiene a una famiglia che non è originale di San Nazaro, ma è arrivato a San Nazaro e credo che sia diventata un esempio per noi sannazaresi. Tutti i membri di questa famiglia, tutti i fratelli, sono riusciti a crearsi un'attività improprio e ad avere un successo che deve essere, dicevo prima, sicuramente un esempio che deve essere un'attività di noi. Prego, Ezio. Io ovviamente parlo poco, quindi ne pratico proprio due parole. Sono Lanciotti Ezio, abito San Nazaro, dal 1980 faccio l'imprenditore, da 11 anni sono presidente dell'associazione artigiani della provincia di Pavia, dell'associazione dell'ormellina, sono dentro il consiglio regionale di casa artigiani e quindi penso di conoscere abbastanza bene il fondo del lavoro delle associazioni, quindi penso di guardare qualcosa. Detto questo, io però faccio parte di Alianuola, sono uno dei fondatori di Alianuola e il nostro obiettivo che ci poniamo è assolutamente quello di continuare il lavoro svolto da Zilioli. Non dico tutto quello che ha fatto perché ha appena nominato Giuseppina, ma il nostro obiettivo è quello di continuare il suo lavoro ed è molto difficile, però noi abbiamo vantaggio, dal Gagliano Zilioli che sarà sempre con noi. Grazie e buon voto a tutti. Ecco, dopo Ezio tocca invece a Luciano Forni che è neopresidente del gruppo ciclistico di San Nazaro, è stato un ex dipendente delle ferrovie e poi ha avuto anche una parte conclusiva dell'attività lavorativa, è stato commerciante ed è sannazarese a tutti gli effetti. A te la parola, Luciano. Buonasera a tutti e benvenuti. Sono Luciano Forni, sono nato a Quarnale e vivo a San Nazaro di Corbonti dal 1976 in via Boviera Trenta. Sono ex dipendente delle ferrovie dello Stato, ho ricoperto il ruolo nella società sportiva di calcio giovanile Pagli come presidente dal 1984 al 1990. Attualmente rivesto il ruolo di presidente del gruppo ciclistico di San Nazaro e dell'azione ciclistica italiana. Ho aderito con entusiasmo all'invito da parte dei componenti della lista Unire San Nazaro con l'impegno e l'emozione di poter partecipare attivamente alla vita politica e amministrativa di questa comunità. Consapevole delle difficoltà e degli sforzi necessari per organizzare e migliorare la problematica non complicate sono pronto ad adoperarmi per questo compito con le attenzioni, la cura e caratteristiche di una gestione del buon padre di famiglia. Per entrare nel merito e nello specifico il programma al quale faccio riferimento si articola nei seguenti obiettivi. Puntiamo ad accordi interessando gli residenti e le società competenti realizzare il casello di Pieve Albignola autostrada a 7 e avviare la prevista sistemazione del ponte sul Po della Gerola coinvolgendo attivamente la collaborazione del gruppo Eni attraverso il contatto delle società. Il mio interessamento particolare sarà per le zone periferiche, accettando suggerimenti da parte dei residenti per valutare le varie situazioni che man mano verranno a crearsi. Saluto cordialmente tutti. Ecco, adesso invece lasciamo la parola a un'altra delle nostre ragazze, a Margherita Piccinini che ha una laurea in lingue, abita alla frazione Savasini, la famiglia originale della frazione Mezzano per cui direi che lei con le frazioni e alle frazioni ci tiene particolare assente. Prego Margherita. Grazie. Buonasera a tutti, sono Margherita Piccinini, risiedo infatti in frazione Savasini, dopo qualche anno che frazione Mezzano. Sono sposata, ho un bimbo di due anni, sono laureata in lingue e dal 2009 sono intermediario assicurativo e svolgo principalmente le mie attività su San Nazaro e i comuni di Librofi. Ho accettato di entrare a far parte di questo gruppo perché vorrei appunto diventare portavoce delle frazioni, degli abitanti delle frazioni che spesso si sentono un po' messi da parte. Innanzitutto vorrei precisare che non è così perché tutti i servizi che questa amministrazione ha messo a disposizione degli abitanti di San Nazaro raggiungono anche le frazioni. In ogni caso il mio intento è quello di svilupparli, migliorarli laddove possibile e aumentare la sicurezza sia stradale che la sicurezza delle famiglie. A questo proposito abbiamo inserito nel programma un paragrafo totalmente dedicato alle frazioni con questi obiettivi principali e io mi impegnerò a rispettarlo in tutto e per tutto. Inoltre come ho detto prima sono anche mamma quindi la mia massima attenzione sarà anche a tutto ciò che concerne la cultura e allo sviluppo di una città a misura di bambino perché crediamo fortemente che dove stanno bene i bambini vivono bene tutti. Grazie. Grazie a Margherita. Adesso tocca a Eugenio Ventura che è un imprenditore e anche lui coinvolto con il mondo dello sport ha avuto un piccolo inconveniente proprio ieri, un intervento di studenti abbastanza importante per cui ti fai capire il punto. Va bene, io prego. Io sono emozionato prima volta che ho avuto un po' di soggetti e quindi buonasera a tutti. Allora provo a San Nazaro aprendo un'attività di abbigliamento con una persona che poi avendo un bambino maculiere aveva dovuto abbandonare e mi sono dedicato allo sport, prevalentemente al tennis che attualmente gestisco gli ex campi da mezzo e da basso che tutti conoscete. Mi è stato chiesto di partecipare a questo progetto di rinnovamento in una continuità appunto interessante e ho chiesto di parlare solo di sport che è la cosa che più mi riesce a vivere. La cosa che mi ha convinto di fare questa cosa in modo particolare è stato l'operato di Graziella che è stato continuo per questi cinque anni che mi va di sottolineare. E poi l'idea di vedere insieme a noi altri due presidenti non di poco conto perché Gianluca credo che dica tutto da solo, l'amico Forni ha presentato un curriculum che parla da solo, queste persone calmeranno la mia fucosità e sicuramente faremo qualcosa di importante e diremo qualcosa di importante in più. Grazie a tutti. Prima di proseguire, volevo far presente che qui davanti ci sono ancora alcuni posti, ecco, vedo che c'è gente in piedi, in fondo dietro alla porta, se mi sono state comode, ci sono potete anche avvicinare. Ora la parola ai più giovani della squadra, 23 anni, laureando in giurisprudenza, segretario dei giovani democratici della provincia di Pavia, un profilo sicuramente interessante. Pregoci. Buonasera a tutti. Come diceva il sindaco, sono scuole di legge e accompagno gli studi universitari al ruolo politico. Sono segretario provinciale dei giovani democratici da febbraio, quindi da pochi mesi. I miei studi universitari, insieme al ruolo politico, mi hanno avvicinato a un tema che sento molto, quello della cittadinanza attiva, a partire soprattutto dai giovani, che dobbiamo educarli ad una maggiore sensibilizzazione e ad una maggiore responsabilità verso la comunità in cui vivono. Io personalmente, se sarò eletto, cercherò di essere il portavoce di quegli anni del 30 che cercano voce, impegno quotidiano e sensibilità che dimostrano ogni giorno per il loro impegno quotidiano. Voglio essere anche rappresentante di una gioventù che vuole dimostrare il suo valore a chi l'ha educata. Il mio, anzi, il nostro, uno dei nostri obiettivi nelle squadre non esiste il io, esiste il noi. Questo anazzaro è quello di un impegno culturale e sociale che assicura alla popolazione tutti gli strumenti necessari per sentirsi parte, per sentirsi di cittadinanza attiva e non soltanto un mero strumento elettorale da chiamare ogni 5 anni. La partecipazione dei cittadini è fondamentale per chiunque voglia fare politica. Voglio impegnarmi e continuare sulla via maestra che ha tracciato l'assessore Invernizi per una biblioteca che sia luogo di apertura e non di chiusura. Una biblioteca che apra, che includa e che non escluda. Voglio aggettivare anche le collaborazioni con i dirigenti scolastici del nostro paese, della nostra cittadina. E soprattutto voglio educare, piacerebbe, iniziare delle attività che direbbe ai giovani, soprattutto alle nuove generazioni, è un tema molto dedicato, un altro tema, quello dell'educazione civica, sempre più urgente e che necessita anche di praticarla questa educazione. Vi ringrazio per essere tutti stasera e buona serata a tutti. Grazie. Adesso del proprio candidato, dico solo il nome perché qualsiasi cosa potrei dire, rischierebbe di diminuirne il valore. Grazie all'invernizzo. Buonasera. Grazie all'invernizzi, 53 anni, impiegata, assessore per passione e per volontà dei cittadini. Sono una donna e, come tale, vado subito al cuore del problema. Perché sono qui oggi a presentarmi nuovamente per le lezioni amministrative? La risposta è molto semplice. E lo ripeto a tutti quelli che mi fermano, che mi telefonano, con i quali parlo, con i quali lavoro. E la risposta è, c'è ancora tanto da fare per questa città e per la sua gente. Io ho scelto ancora unire San Nazaro perché ho bisogno di altri 5 anni per continuare a completare quanto avviato. Ho bisogno ancora di tempo perché ci sono tanti nuovi progetti troppo belli e troppo importanti da portare avanti. Ho scelto ancora unire San Nazaro perché noi, con loro, con questi giovani, possiamo fare tanto. Perché essere giovani con noi a San Nazaro può essere diverso. Può rappresentare veramente un'opportunità per crescere. E qui lo dico a chi ha una famiglia oppure a chi pensa di averne una. Se veramente vogliamo offrire opportunità ai nostri figli, dobbiamo ripensare i moderni ascensori sociali per trovare soddisfazioni professionali e anche soddisfazioni umane. Perché è utile avere maggiori disponibilità economiche. Perché è giusto di avere ricompensati i nostri sacrifici. Ma noi crediamo in alcuni valori che devono dare un senso al lavoro. Questi valori sono la cultura, la responsabilità, le corresponsabilità, la libera iniziativa, la produttività, i compiti dei genitori e delle associazioni, gli obiettivi. Dobbiamo superare le logiche del qui subito ora e pensare di dare a tutti le pari opportunità. fare opportunità di crescere e non solo di sperare, ma anche di realizzare concretamente una vita migliore. Ho scelto ancora unire San Mazzaro perché qui ci sono quattro donne speciali che vogliono essere parte attiva della vita di San Mazzaro. Perché il nostro ruolo politico non sarà certamente passivo. Siamo infatti quattro donne che portano qui il proprio approccio del tutto personale e tipico del mondo femminile. Determinate nel realizzare gli obiettivi di questo programma. Ho scelto ancora unire San Mazzaro perché credo nell'importanza della cultura, per la ricchezza di una comunità. Perché credo nella partecipazione dei cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni della società civile ed economica. Io, Grazie all'Invernizzi, sono qui. Noi siamo qui nel segno del rinnovamento e della continuità amministrativa. Grazie anche al lavoro portato avanti dai tanti compagni di viaggio, consiglieri comunali e assessori, collaboratori, con i quali in questi anni ho tanto lavorato e con i quali abbiamo assunto la responsabilità di sostenere decisioni anche difficili. Noi siamo qui e con noi tanti cittadini che giorno dopo giorno continuano a dimostrare il loro sostegno, a condividere con noi le loro idee e le loro proposte. Il tutto unito alla volontà di continuare nel percorso che fin qui si è già tracciato. Insieme per dare una visione al futuro di San Mazzaro, al futuro che vogliamo, al futuro che immaginiamo, al futuro di tutti. Noi siamo qui perché abbiamo posto al centro del nostro progetto politico dei giovani motivati, finalmente protagonisti in prima persona all'interno della nostra compagine. Noi siamo qui con Giovanni Maggi e non solo per augurarvi oggi buon compleanno. Vi chiediamo, come lista e anche io personalmente, chiedo il vostro sostegno. Ora, e se ci sarà un futuro per noi, allora vi chiedo ancora di più. Vi chiedo di seguirci, di aiutarci, di indicarci la strada migliore in tutti i nostri progetti e in tutti i nostri desideri per questa città. Grazie. Bene, chiude il giro delle grandi presentazioni. Poi, Paolo Daleto, che è un giovane ingegnere architetto che ha acquisito una buona, ottima esperienza anche dal punto di vista politico, essendo il segretario dei Democratici di San Mazzaro. Prego, Paolo. Dopo cinque anni mi ricandido e a trent'anni non ancora compiuti mi tocca la parte della continuità amministrativa di questa amministrazione. Mi ricandido dopo cinque anni come consigliere comunale, mi ricandido dopo un'esperienza acquisita a livello politico come segretario locale del Partito Democratico, come componente di assemblea provinciale, della direzione provinciale, un'esperienza politica necessaria anche per fare buona amministrazione. Perché i partiti servono, ma i partiti devono essere un supporto alle amministrazioni. Come diceva Giovanni, in questi cinque anni mi sono laureato, sono abilitato alla professione di architetto, mi sono abilitato alla professione di ingegnere civile ambientale, sono iscritto all'ordine degli architetti di Pavia e svolgo la libera professione in collaborazione con un professionista di Pavia presso il suo studio. Dal punto di vista personale, il lascito più importante di questi cinque anni di mio ruolo amministrativo è stato quello dell'adozione del piano di governo del territorio. Un piano molto importante per la nostra comunità perché cerca di recuperare quelle aree che da troppo tempo sono bloccate, che da troppo tempo sono dei buchi neri nel nostro tessuto urbano. Pensiamo, giusto per fare un esempio, alle viterie, a quanto terreno occupano, a che possibilità possiamo avere nel recuperare questi ambiti territoriali così vasti. Il piano di governo del territorio che abbiamo adottato tutela anche il settore agricolo, valorizza le aree agricole strategiche, cerca di contrastare il consumo di suolo, tutela il territorio. Questo è un obiettivo che la nostra amministrazione si è posta fin dal principio, è un obiettivo che continueremo a porci, quello della tutela del territorio. E la tutela del territorio passa attraverso il rifiuto di un progetto assurdo, come abbiamo descritto questi anni, che è quello della discarica di cemento amianto. Un progetto errato, soprattutto per la collocazione in un ambito totalmente sbagliato, totalmente errato. Questa amministrazione in questi cinque anni ha contrastato con forza e soprattutto con motivazioni tecniche questo progetto. Questo progetto però è stato approvato, è stato approvato ma noi non ci arrendiamo. Però l'approvazione ha un chiaro colore politico, ha una chiara matrice politica ed è Regione Lombardia. Regione Lombardia cosa vuol dire? Vuol dire Lega Nord, vuol dire Forza Italia, vuol dire Fratelli d'Italia, che nulla, nulla hanno fatto per il nostro territorio. Il nostro territorio, per colpa loro, sarà un territorio sempre più povero, sarà un territorio dove con questo progetto le nostre case perderanno valore, dove abbiamo timori per la nostra salute perché ci mancava solo questa. Ci mancava solo questa e noi non la vogliamo perché noi riteniamo che il nostro territorio abbia già dato. La nostra battaglia, che abbiamo iniziato cinque anni fa, che continueremo perché non ci arrendiamo. La nostra battaglia non è finita, la stiamo combattendo, la stiamo combattendo a spada tratta e la possiamo combattere solo noi. La possiamo combattere solo noi che noi non ci circondiamo di ciocca, non ci circondiamo di centinaia, non ci circondiamo di Mura, non ci circondiamo di Cattaneo, di Barbieri, di Carabelli. Tutta questa gente ha un ruolo, ha una responsabilità politica in questo progetto e la dobbiamo avere chiara. Perché quando verranno a San Nazaro, faranno di San Nazaro una bandiera, una bandierina e non faranno di San Nazaro quello che ha fatto il sindaco, una guida per il nostro territorio. Perché San Nazaro in questi cinque anni è riuscito ad opporsi ad uno sviluppo che sembrava ormai destinato a quello di fare da Lomellino un territorio di discarica, un territorio residuale, a farla diventare l'ultima provincia dell'impero. Questa Lomellina non è la Lomellina che vogliamo, questa Lomellina non è la Lomellina che vuole unire San Nazaro e che non vuole nemmeno le altre compagini politiche a noi vicine che si candidano a Mede e che si candidano a Garlasco. Noi abbiamo creato rete perché crediamo che la Lomellina non debba più essere un territorio di singole comunità che non parlano tra di loro. dobbiamo essere in grado di creare uno sviluppo finalmente territoriale, ampio, vasto, con una visione puntata sull'ambiente, non più su questi progetti che ci penalizzano e che ci fanno perdere. Perché la Lomellina può avere uno sviluppo diverso e noi siamo qui per ribadire con forza che da San Nazaro può partire uno sviluppo diverso e questo sviluppo diverso può partire solo con questo gruppo perché l'altro gruppo è riconducibile a Regione Lombardia che questo sviluppo non lo vuole. abbiamo iniziato un percorso 5 anni fa, lo continueremo, lo continueremo come un sindaco che per la sua comunità è disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24. anche un po' esagerato, chiamate un po' tardi ma va bene. Giovanni è il mio candidato, Giovanni è il nostro candidato, Giovanni è il sindaco di cui la nostra comunità ha ancora bisogno. continuiamo il percorso, continuiamo a costruire una comunità più forte e coesa, continuiamo verso il futuro, non fermiamoci, rinnoviamo la sfida, andiamo avanti perché abbiamo ancora bisogno del vostro aiuto per fare una San Nazaro sempre più unita, perché abbiamo bisogno del vostro aiuto per continuare ad unire San Nazaro. grazie